Devo dirvi una cosa pazzesca! Allora, oltre al fatto che 3 è la compagnia UMPS leader in Italia e la ricciata nel futuro da oggi ti fa usare Skype anche sul cellulare così puoi chiamare quanto e quando vuoi in tutto il mondo se tu usai computer Solo con 3 hai l'esclusivo Skype Phone da oggi parli gratis via internet in Italia e nel mondo Abbiamo preparato uno son bellissimo col pulmami il palletto sta fioriera di fessi e invece piove, porca loca! Speriamo che cambi! Meglio cacchiare! Meglio chiamare! Devo dirvi una cosa pazzesca! Allora, oltre al fatto che 3 è la compagnia UMPS leader in Italia e la ricciata nel futuro da oggi ti fa usare Skype anche sul cellulare così puoi chiamare quanto e quando vuoi in tutto il mondo senza usare computer Ma capito? Cioè, allora, tu puoi usare Skype col cellulare io provo oggettivamente fighissimo Solo con 3 hai l'esclusivo Skype Phone da oggi parli gratis via internet in Italia e nel mondo Meglio chiamare, ne! Sì! Quindi...